5 novembre 1977. Muore Giorgio Lapira. È stato sindaco di Firenze e sottosegretario al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale nel quinto governo de Gasperi. Lapira sceglie soprattutto di essere un libero apostolo del Signore, come lui stesso si definisce, cercando la sua missione nella società. La profonda azione sociale è infatti fondata sul comandamento dell'amore, inteso come la realizzazione del corpo mistico della Chiesa nella storia dell'umanità. Nel 1986, sotto Papa Giovanni Paolo II, è stata avviata la causa della sua beatificazione.